Buongiorno, buongiorno con le stelle, io sono Monica Amarillis e questa è la mia rubrica astrologica. Per prenotare una consulenza e il tuo oroscopo personalizzato, scrivi a infochiocciola monicaamarillis.com Buongiorno amici, buona settimana. Siamo ormai alla fine di gennaio e questa settimana va dal 29 di gennaio al 4 febbraio. A livello astrologico non ci sono novità particolari, non ci sono pianeti che cambiano segno o pianeti che diventano retrogati o diretti, ma è comunque un periodo cosmico importante perché siamo nel periodo della Candelora, che corrisponde nel nostro calendario al 2 febbraio ed è sostanzialmente una festa della luce. Infatti il buio dell'inverno comincia a lasciare posto alla luce che ritorna. Le giornate già si vede chiaramente che si stanno allungando e la natura si prepara al risveglio primaverile. Nel calendario celtico questa festa era quella di Imbolc, dedicata alla Dea Brigid, che è stata sostituita poi nella religione cristiana da Santa Brigida d'Irlanda, che viene festeggiata per l'appunto il primo febbraio. Mentre nei tempi romani, alle calende di febbraio, ovvero la luna nuova di febbraio, era dedicata la festività di Giunone Februa ed era sostanzialmente una festa di purificazione, anche qua per prepararsi al risveglio imminente generato dalla primavera. La luce dei falò che puntellavano tutte le feste pagane e celtiche rimaste poi nelle tradizioni contadine. In questa festa particolare la candelora viene appunto sostituita dalle candele, una fiamma più interiore, più domestica, ma su cui possiamo tutti meditare. E augurandovi quindi buona candelora, entriamo ora nel mondo delle stelle e dei pianeti e vediamo che cosa sta succedendo. Ritroviamo Plutone sempre al grado 0 dell'acquario, Nettuno al venticinquesimo grado dei pesci, Urano a 19 gradi del toro, Saturno è sui 6 gradi dei pesci, Giove invece è sui 7 gradi del toro, quindi ancora nella prima decade. Marte si sposta dai 18 gradi ai 23 del capricorno, Venere dai 7 ai 15 gradi sempre del capricorno, Mercurio dai 19 ai 29 sempre del capricorno, quindi vediamo che ancora il capricorno è parecchio protagonista. Questa settimana insieme all'acquario dove si trova il sole e dove si trova anche Plutone, il sole si sposta dagli 8 ai 15 gradi dell'acquario, mentre la luna che troviamo in vergine a inizio settimana attraversa bilancia, scorpione, e la ritroviamo in sagittario alla fine della settimana. A livello generale quindi le cose non sono molto cambiate dalla settimana scorsa, ci potranno essere dei movimenti emotivi generati dai movimenti della luna e questa settimana seconde e terze decadi avranno un po' più di energia perché i pianeti veloci si spostano per l'appunto nella seconda e la terza decade, perlomeno per quanto riguarda capricorno e acquario e quindi soprattutto i segni di terra, i segni d'aria ma anche alcuni segni d'acqua e di fuoco e vedremo bene di cosa si tratta. Cominciamo con l'Ariete, il nostro primo segno dello Zodiaco. Diciamo che forse l'Ariete ancora non si rende conto dei cambiamenti che sono avvenuti perché Plutone ha smesso la annosa quadratura e quindi dissonanza che infliggeva ai nati negli ultimi giorni del segno. Adesso si è trasformato in alleato per chi è nato nei primi giorni del segno però ancora forse i nativi non se ne rendono tanto conto perché in questo momento ci sono i pianeti veloci nel capricorno che quindi provocano sempre una dissonanza e magari un po' di movimenti, inghippi, nervosismo, piccoli ostacoli insomma che potrebbero un po' darvi sui nervi e quindi potreste essere, attenzione, un po' irritabili cari arieti e un po' di tutte le decadi soprattutto seconda e terza. La seconda decada riceve anche una piccola inizione di vitalità perché c'è il bell'aspetto del sole che rivitalizza quindi ci sarà un grande risveglio presto per gli arieti ma ancora non se ne rendono conto perché sono un po' presi dalle piccole cose che potrebbero essere un pochino fastidiose ma sono cose di poco conto e finiranno presto quindi cari arieti rivolgete le vostre energie al futuro prossimo. Le giornate no questa settimana sono quelle in cui la luna si trova nel segno opposto la bilancia ovvero martedì dal mattino alle 9 fino alle 21 e 30 di giovedì sera mentre la giornata sì sarà domenica sostanzialmente dal mattino presto la luna in sagittario un segno amico quindi questo ci conferma che passerete la settimana un pochino nervosetti e solo domenica riuscirete finalmente a rilassarvi. Anche per il toro non cambiano molto le cose questa settimana ci sono tutti i pianeti veloci in buon aspetto dal Capricorno poi nel toro ci sono sempre Giove e Urano queste presenze importanti che ormai da un annetto per quanto riguarda Giove e Urano da molto più tempo vi stanno dando proprio degli input incredibili per trasformare le vostre situazioni mettere in campo cose nuove iniziare nuovi progetti quindi sicuramente siete indaffarati cari tori e avete il supporto anche di Saturno e Nettuno Saturno prima decade appoggia Giove in tutti i progetti mentre Nettuno si occupa della terza decade dando un po' di apertura verso la fantasia, la creatività mentre Urano è alla fine della seconda decade ed ha un input di dinamismo e intraprendenza ma questa settimana soprattutto per quanto riguarda seconda e terza decade siete proprio spinti in avanti anche dall'energia dei pianeti veloci sotto tutti i punti di vista quello del lavoro, della comunicazione degli amici, dell'amicizia e anche dell'amore chi appartiene alla seconda decade che riceve la quadratura del sole potrebbe sentirsi persino un po' troppo sollecitato perché sono veramente tante le cose che bollono in pentola i giorni sì con la luna a vostro favore sono lunedì e fino a martedì mattina i giorni no sono quelli con la luna nel segno opposto lo scorpione da venerdì a tutto sabato i gemelli cominciano a sentirsi un po' più leggeri sentono proprio di poter respirare più a pieni polmoni che vi ricordo è anche l'organo collegato al vostro segno cari gemelli permangono le dissonanze di Saturno e Nettuno che colpiscono sempre prima rispettivamente prima e terza decade ma prima di tutto è finito il transito dei pianeti veloci nel segno opposto, quello del sagittario e qui c'è già un po' di appunto respiro e poi sono cominciati i transiti positivi di Plutone che riguardano finora chi è nato nei primi giorni del segno e del sole che sta investendo con la sua energia chi è nato alla fine della prima decade e fino a metà della seconda quindi cominciate sicuramente a sentire che le cose stanno cambiando l'energia sta cambiando per voi ma per il momento è ancora una promessa una promessa che si realizzerà soprattutto in primavera estate i giorni no della settimana sono lunedì e martedì fino in realtà al primo mattino quindi non preoccupatevi sostanzialmente lunedì e anche domenica con la luna in sagittario nel segno opposto i giorni si sono invece quelli con la luna in bilancia quindi dalle 9 del mattino di martedì fino a giovedì sera alle 21.36 per il cancro che ha avuto dei mesi molto favorevoli recentemente forse questa settimana anche come quelle passate e anche quella prossima probabilmente non sono proprio il massimo dell'energia della vitalità e siete sicuramente un po' affaticati dal transito dei pianeti nel segno opposto quindi in questo momento in Capricorno ci sono ancora Venere, Marte e Mercurio che stanno prendendo di mira soprattutto seconda e terza decade e probabilmente vi creano qualche difficoltà insomma potrebbe esserci qualche sgambetto attenzione nella vita di tutti i giorni e un pochettino di stanchezza, demotivazione o anche nervosismo ma ovviamente avete tanti astri a vostro favore e ci sono soprattutto Giove e Saturno che aiutano chi è nato nella prima decade quindi sicuramente questa settimana la prima decade è la favorita del cancro e poi Urano e Nettuno che invece aiutano chi è nato tra la fine della seconda decade e la terza decade ad avere parecchie idee parecchi spunti, invenzioni, intuizioni che vi porteranno lontano luna positiva lunedì e anche da venerdì fino a tutto sabato mentre le giornate no sono quelle con la luna in quadratura ovvero in bilancia quindi da martedì alle 9 del mattino fino a giovedì sera alle 21.36 anche il leone probabilmente sta sperimentando un piccolo calo energetico questa settimana e da quando il sole è entrato nel segno dell'acquario che è il segno opposto a quello del leone e al momento non ci sono ancora pianeti in posizioni favorevoli al leone quindi sostanzialmente l'unica influenza di un certo rilevo è proprio quella del sole che sta passando tra la fine della prima decade e la metà della seconda mentre permangono le dissonanze di Giove che colpisce ora chi è nato alla fine della prima decade e quella di Urano che si occupa di chi è nato alla fine della seconda decade e queste dissonanze possono dare un po' di sconforto un pochino di mancanza di fiducia in se stessi nei propri progetti oppure la ricerca di attività compensatorie a una certa tensione interiore che si accumula sempre di più quindi si sta esaurendo l'effetto positivo dei pianeti veloci che sono passati nel sagittario recentemente e vi ritrovate ora un po' orfani di protettori celesti cari leoni anche voi resistete fino alla tarda primavera estate quando Giove finalmente entrerà in un segno favorevole per il momento vi potete affidare alla luna questa settimana che sarà in segni a voi favorevoli martedì, mercoledì e giovedì e anche la domenica attenzione invece alle giornate di venerdì e sabato perché con la luna dissonante potreste avere veramente la luna storta per quanto riguarda la Vergine abbiamo veramente una caterva di stimoli di input con tutti i pianeti veloci nel Capricorno Marte, Mercurio e Venere quindi avrete sicuramente una bella spinta ad agire a fare vi ricordo che avete anche Giove e Urano dalla vostra parte dal Toro insomma questa settimana tutte le decadi sono coperte perché Giove si occupa della prima decada e sappiamo che porta espansione apertura un po' di buona fortuna Urano anche da una bella spinta ad agire ma così stanno facendo anche i pianeti del Capricorno quindi Mercurio aiuta la vostra socialità aiuta a esprimervi Venere aiuta anche la vostra vita affettiva e tutti questi pianeti favorevoli ne avete cinque a vostro favore vi aiutano anche a alleviare la dissonanza degli unici due pianeti che vi vanno contro ovvero Nettuno e Saturno e anche Saturno sta colpendo la prima decade e Nettuno la terza quindi Nettuno genera confusione genera una sorta di limbo di nebbia non si sa bene dove muoversi mentre Saturno crea dei veri ostacoli e a volte anche quella sensazione di essere troppo appesantiti di avere troppe cose di essere un po' schiacciati dalle responsabilità ma appunto i pianeti favorevoli invece sono sicuramente in grado di bilanciare le cose e per quanto riguarda la Luna è proprio nel vostro segno a inizio settimana quindi tutto lunedì fino alle 9 del mattino di martedì e quindi favorevole vi aiuta anche ad avere delle buone intuizioni a essere presenti a voi stessi essere molto lucidi e poi sarà anche positiva venerdì e sabato nel segno dello scorpione l'unico giorno in cui la Luna non è positiva è la domenica quindi probabilmente quando vi riposate e vi rilassate vi vengono un po' addosso tutte le emozioni le elaborerete nel corso della domenica magari tutte le emozioni che non avete avuto neanche il tempo di filtrare nel corso della settimana e magari vi sentirete un po' sopraffatti un po' stanchi ma ci sta la bilancia riceve il bell'aspetto del sole che in questo momento sta influenzando chi è nato a cavallo tra prima e seconda decade e anche il bell'aspetto di Plutone finalmente per chi è nato all'inizio del segno però sta anche risentendo del passaggio dei pianeti veloci nel Capricorno che è un segno dissonante quindi a livello relazionale di comunicazione a livello affettivo non sarete molto contenti probabilmente possono nascere dei malintesi con la persona amata o con le persone intorno a voi anche in famiglia o tra gli amici anche sul lavoro e soprattutto chi è chi appartiene all'inizio della terza decade e alla fine della seconda decade potrà essere un po' nervoso e un po' esaurito a livello soprattutto fisico la luna sarà nel vostro segno a partire da martedì dalle 9 del mattino fino alle 21 e 36 di giovedì sera e saranno quelle le giornate migliori ma devo dire che per tutta la settimana la luna non è mai in segni dissonanti anzi domenica sarà anche in un segno amico il sagittario quindi la luna questa settimana vi aiuta quindi avrete una stabilità emotiva una capacità di essere presenti nel momento nel luogo in cui vi trovate essere sempre lucidi lo scorpione questa settimana nonostante la solita dissonanza di Giove e Urano che si trovano nel segno opposto quindi ormai Giove è quasi un annetto che è nel segno opposto e non si è quasi mai mosso dalla prima decada e quindi sono sempre stati quelli della prima decada a essere colpiti dalla dissonanza di Giove che sappiamo che spegne un po' gli entusiasmi quando è dissonante oppure provoca una sorta di mancanza di lucidità voglia di strafare ma senza averne i mezzi per cui si combinano poi pasticci quindi fate attenzione mentre Urano che in questo momento si trova alla fine della seconda decada del toro colpisce appunto i nati alla fine della seconda decada dello scorpione e anche qua a volte può essere un segno di inconclusione di non riuscire a portare a termine dei compiti oppure di voler ribaltare delle situazioni già consolidate facendo anche qua un po' di pasticci però questa settimana avete il buon aspetto di tutti i pianeti che si trovano in questo momento nel Capricorno e soprattutto seconde e terze decade e invece chi a partire della prima decade riceve comunque il buon aspetto di Saturno che aiuta a creare e portare avanti progetti lungimiranti e il buon aspetto di Nettuno ha sempre influenza su chi è nato sulla terza decade porta creatività capacità di visione di lungo raggio e seconda e terza decade ricevono appunto anche il supporto di Venere Marte e Mercurio che movimentano piacevolmente la vita di tutti i giorni negli incontri soprattutto nelle relazioni con gli altri Plutone ha cominciato a fare la dissonanza che è nato all'inizio del segno quindi proprio nel primo giorno secondo giorno del segno potrebbe portare delle riflessioni profonde ma anche un certo disagio perché si percepisce che forse devono cambiare delle cose ma ancora non si capisce come devono cambiare che cosa deve cambiare in che direzione bisogna andare inoltre il sole è dissonante a chi è nato alla fine della seconda decada e all'inizio della terza ma questo porta magari una piccola flessione nella vitalità quindi un po' di stanchezza fisica la luna è sempre positiva questa settimana ed è in un segno amico lunedì quindi nella vergine e nel vostro segno venerdì e sabato quindi negli altri giorni in segni neutri nei segni contigui al vostro e ovviamente spesso anche voi avete dei pianeti alla nascita nel segno del sagittario nel segno della bilancia spesso sia mercurio venere o altri pianeti ovviamente quando si ha il sole in scorpione e quindi potreste comunque averne un beneficio o al mal che vada sono semplicemente si tratta di un passaggio neutro quindi comunque luna tutta favorevole per voi questa settimana settimana piuttosto tranquilla per il sagittario il passaggio di pianeti veloci nel segno contiguo del capricorno non vi dà affatto fastidio anzi e plutone il sole nel segno dell'acquario è un segno amico sicuramente vi danno una piccola marcia in più plutone per chi è nato all'inizio del segno mentre il sole sta rivitalizzando è un'influenza ovviamente che dura pochi giorni però dà sempre una piccola un piccolo innalzamento nella vitalità e in questo caso per chi è nato alla fine della prima decade e nella prima metà della seconda decade permangono ovviamente le dissonanze di Saturno e Nettuno Saturno colpisce la prima decade fa sentire la pesantezza delle cose magari della routine quotidiana una sorta delle responsabilità anche mentre Nettuno colpisce la terza decade ormai da parecchio tempo almeno un paio d'anni vi ricordo che adesso è sul venticinquesimo grado dei pesci e Nettuno che è uno dei vostri signori e signori del vostro segno ebbene provoca in questo caso confusione potrebbe anche portare un po' di un po' di calo fisico e emotivo morale quindi non sapere bene come muoversi dove muoversi in che direzione far andare le proprie energie ma come vi dicevo il sole comunque vi aiuta e questa settimana anche la luna vi è solo amica a parte lunedì lunedì è ancora nel segno della vergine che è ovviamente un segno dissonante al vostro quindi lunedì forse potreste avere la luna un po' storta ma già da martedì alle nove si sposta in un segno vostro amico la bilancia fino a giovedì sera e domenica sarà nel vostro segno quindi insomma la luna vi aiuterà notevolmente ad avere una tenuta emotiva e a essere sempre presenti e lucidi arriviamo al capricorno che come al solito sta facendo incetta di doni celesti abbiamo in questo momento questo passaggio dei pianeti veloci nel segno e venere si sposta dalla prima alla seconda decade marte rimane nella seconda poi si sposta all'inizio della terza decade mentre mercurio sostanzialmente attraversa tutta la terza decade questa settimana quindi sicuramente questi pianeti movimentano piacevolmente le vostre giornate dinamizzano i vostri incontri il lavoro le amicizie gli amori e poi avete anche il buon aspetto di Saturno e di Giove che si riflettono sulla prima decade dando fortuna ma anche lungimiranza capacità di portare avanti i progetti mentre Urano e Nettuno sono favorevoli a chi è nato alla fine della seconda decade e alla terza decade ed hanno inventiva capacità di muoversi di essere propositivi questo per quanto riguarda Urano mentre Nettuno dà quella sorta di visione futuristica di capacità di andare un po' oltre le circostanze e di vedere come le cose si possono muovere nel futuro quindi un periodo molto positivo datevi da fare cari capricorni per mettere a frutto queste energie la luna sarà positiva lunedì nel seno della vergine attenzione invece sarà dissonante da martedì a giovedì sera e poi di nuovo positiva venerdì e sabato quindi il vostro buon umore è assicurato per buona parte della settimana eccoci all'acquario l'altro protagonista di questo periodo insieme al capricorno che è appunto il passaggio di tutti quei pianeti nel proprio segno ma nell'acquario ci sono il sole e plutone quindi due veramente pesi massimi soprattutto plutone che si sente molto di più perché poi rimane fermo sugli stessi gradi per parecchio tempo perché è molto lento un pianeta molto lento mentre il sole si muove apparentemente si muove in realtà siamo noi che ci muoviamo intorno al sole ma comunque il passaggio del sole nel segno è ovviamente più veloce ma è una rivitalizzazione annuale quando il sole passa cioè nel periodo del nostro compleanno sostanzialmente si rinnovano le energie che ci riguardano quindi individuali e quindi questo in questo momento sta toccando chi è nato alla fine della prima decada e fino alla metà della seconda decada permangono per l'acquario le dissonanze di Giove e Urano abbiamo visto Giove colpisce la prima decada e Urano la seconda e questi due pianeti possono portare un po' di diciamo essere un po' inconcludenti e anche poco produttivi poco determinati un po' pasticcioni quindi fate attenzione però le cose stanno per cambiare stanno anzi già cambiando notevolmente intanto il sole vi rivitalizza poi Plutone vi porterà grande magnetismo e capacità di credere in voi stessi di avere veramente una forza interiore morale incredibile i giorni con la luna a vostro favore sono quelli che vanno da martedì a giovedì sera e anche la domenica quando la luna è in sagittario mentre i giorni no a cui fare un po' attenzione perché potreste essere un po' di malumore o comunque reagire alle provocazioni saranno quelle di venerdì e sabato con la luna in scorpione ed eccoci all'ultimo segno i pesci e anche i pesci diciamo che non ci preoccupano molto in questo periodo perché ricevono tantissimi belli aspetti intanto appunto dai pianeti veloci nel capricorno quindi venere marte mercurio stanno aiutando soprattutto seconda e terza decade ma anche venere è passata insomma alla fine della prima decade passa alla fine della prima decade all'inizio della settimana e quindi aiutano la socialità l'affettività la capacità di comunicare la capacità di combattere di tirare fuori gli attributi Saturno e Nettuno sono sempre nel vostro segno cari pesci quindi Saturno vi aiuta ad essere più concreti più coi piedi per terra mentre Nettuno amplifica le caratteristiche di sogno di intuizione di immaginazione del segno però vi può dare delle idee incredibili l'importante è poi essere concreti nel riuscire a realizzarle ma in questo vi aiutano anche Urano e Giove Giove perché porta un po' di espansione fortuna la capacità di essere nel posto giusto al momento giusto entra Urano da una spinta all'azione una spinta al fare che vi metterà veramente in moto quindi tutti i pianeti sono per voi positivi e vediamo com'è la luna questa settimana ebbene lunedì è nel segno opposto al vostro quindi forse non sarete del tutto centrati però è solo un'influenza quella della luna un po' emotiva quindi avrete forse un po' più di emotività ma abbiamo visto che ci sono tantissimi pianeti a vostro favore e la luna sarà a voi positiva venerdì e sabato con la luna nel segno dello scorpione mentre attenzione la domenica perché sarà in sagittario e quindi anche la domenica potreste avere un calo emotivo o comunque potreste non essere del tutto centrati e con questo abbiamo terminato questa settimana la nostra rassegna zodiacale io vi auguro di passare un'ottima settimana e di festeggiare almeno interiormente con una piccola riflessione accenendo una candera esprimendo i vostri desideri o comunque riflettendo su quelli che sono i vostri profondi veri desideri ebbene festeggiate la candelora anche voi buona settimana e dopo il nostro buongiorno con le stelle continuiamo la nostra giornata con spirito alto e buona energia e vi ricordo che se volete un consulto astrologico mi trovate sul sito www.monicaamarillis.com oppure potete scrivermi all'email info chiocciola monicaamarillis.com